Fin qui l'Italia ha dimostrato di essere poco abituata a utilizzare i dati a disposizione. Vivere di rendita sulla propria ricchezza storica e artistica non basta più. E allora ecco l'opportunità offerta dai big data, che rappresentano il vero valore aggiunto per consentire al paese di occupare uno spazio sulla frontiera dello sviluppo turistico. Questo è un settore fluido che cambia rapidamente e la tecnologia accelera questo processo. Occorre quindi rispondere con prodotti e servizi innovativi. La Toscana in questo senso è in prima linea, per questo i grandi player internazionali si sono incontrati alla BTO di Firenze, l'evento annuale dedicato al turismo e all'innovazione. È necessario lavorare sui dati, ma non sui dati di chi ha dormito qui ieri o l'altro ieri, che pure in Italia faceva difficoltà da avere, ma su chi verrà fra sei mesi e fra un anno in Italia per prepararsi ad accoglierli al meglio. Per fare questo bisogna interloquire con i grandi player del mercato internazionale, della ricerca, Huawei, Ctrip, WeChat, per quanto riguarda il mercato cinese e anche per mercati di tutta l'area asiatica, in generale Huawei di tutto il mondo, sono i player più importanti. Basta vedere le loro data room. Io ho avuto la fortuna di essere presente a vedere la data room di Ctrip, Ctrip, che è il secondo operatore del turismo al mondo dopo Booking, e di Huawei, che è uno dei primi operatori della telefonia, hanno delle data room incredibili. La metà del personale di Ctrip, che è un tour operator, sono ingegneri informatici. Su 10.000 impiegati, 5.000 sono ingegneri informatici, per farvi capire l'importanza del dato. All'incontro SmartChina hanno partecipato i colossi tecnologici specializzati in comunicazione e innovazione. I dati che appartengono agli enti rappresentano il sistema nervoso digitale che emette informazioni, ma senza la loro elaborazione ogni utilità verrebbe meno. È anche per questo che nasce e si fortifica un rapporto tra pubblico e privato, capace di dar vita a un nuovo ecosistema che fa dell'intelligenza artificiale il primo punto di forza. Lo sforzo che stiamo facendo, insieme a, in particolare, alle pubbliche amministrazioni, noi ci poniamo come incubatori, come abilitatori, come partner, quindi creando un ecosistema che ci permette appunto di avere pubblico e privato insieme per poter realizzare progetti con intelligenza artificiale su progetti di città intelligenti che possono essere le nostre grandi città, le regioni o tantomeno anche i piccoli centri, i villaggi. E così anche la Toscana guarda verso oriente. A Firenze si è parlato della Cina. È impossibile quindi non valutare l'implicazione del coronavirus sul turismo, sulle famiglie di lavoratori e viaggiatori e sulle relazioni commerciali e istituzionali. È anche abbastanza triste vedere i miei colleghi che si preoccupano delle proprie famiglie. Si sono state attivate tutte le precauzioni del caso. Chi era in Cina è rimasto in Cina purtroppo. Chi è in Italia è in attesa di poter ritornare a casa. Noi come Toscana dobbiamo confermare la nostra indole di accoglienza confermandogli la vicinanza, facendogli sentire che nonostante tutto anzi soprattutto in questo momento gli siamo vicini il che non vuol dire poter attivare flussi turistici perché non è possibile ma confermare la vicinanza perché con la Cina un grande paese, un grande player internazionale non si può pensare che per sei mesi sia amici, per sei mesi no e poi per sei mesi dopo si ritorna ad essere amici, sarebbe stupido immaginarlo e quindi la strategia della Toscana è in questo momento confermare vicinanza per poter lavorare al meglio con loro.